direi un attimo che succede se parte questa live che ha tipo che ci sono un sacco di rumori fotonici un sacco di rumori fotonici perfetto si sente meravigliosamente e vediamo di Beu ciao signori una live impressionante, incredibile, meravigliosa qui a casa del Beu vediamo se arriverà qualcuno, non ci crede nessuno vediamo un attimo, allora devo fare un'operazione fotonica devo fare un'operazione fotonica perché devo capire i poteri forti la mia chat la mia chat è comparsa bella, meravigliosa, stupenda così posso fare un'operazione da Big Straver qui sul canale sul canale grande ciao talismano, come stiamo? con questa inquadratura fotonica dall'alto verso il basso dove si nota in maniera fotonica la mia assenza totale di pelluria sul frontespizio un attimino che sto allargando la chat come sta signor talismano, qual buon vento come mi sente signor talismano come mi trovi in questo luogo ritorniamo alle origini in un bello perfetto, perfetto niente, sto finalmente provando in maniera democratica questo mio setup da casa chi si ricorda dall'ultima volta che ho fatto gli acquisti per il canale comprai questo strumento magnifico del male fotonico che praticamente mi dona questo audio senza schifezze senza cosa quindi è da una vita che dico devo fare una live per vedere bene se questa cosa funziona se funziona in maniera giusta e invece è così stiamo usando l'applicazione audio limpido Recoaro io questa cosa la dovrei è che per esempio non fa parte del format di Gustavo però secondo me anche Gustavo una cosa del genere si dovrebbe organizzare un pochettino con questa situazione un po' come il Beto con il microfono con le cuffie anche se secondo me non sarebbe nemmeno più Gustavo con questa situazione perché? perché è un semplice motivo un giorno da un lato da un giorno da un altro lato quindi non è che lui ha una postazione fissa quindi sarebbe pure un po' avendo un po' una scelta no senso niente signori io volevo fare questa prova ho detto faccio una live vediamo se qualcuno si ricorderà del piccolo Beto in tutta la sua bruttezza in tutta la sua barbitudine allora in questa inquadratura non lo so sembra che boh non lo so la mia barba non rende al meglio con questa inquadratura ma come stiamo provando che ce frega ci proviamo lei cosa ha fatto di bello signor signor lei signor lei che una volta allora unica pecca inquadratura in verticale non fu scream ma va bene lo stesso allora sto provando questa posizione perché si vede la panza del Beto mi hanno detto che anche fondamentalmente me l'ha confermato il signor signor Gustavo che praticamente c'è un problema ci sono problemi di carattere tecnico per quanto riguarda l'applicazione di Twitch questa è l'applicazione di Twitch quella che sto utilizzando però 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 c'è un però in tutte le cose io ho paura che magari allora messo in versione verticale si veda bene si veda più che bene invece con la situazione invece magari orizzontale sfasa qualche cosa qualche meccanismo forense è molto molto strano quindi ho detto voglio fare questa prova voglio fare questa prova anche perché questa prova quindi è in contatto con Gustavo io come tutti i comuni mortali mi seguo le live magari entro e non scrivo anche perché non lo so non lo so magari ogni volta che lui entro lui parla sta facendo un discorso fare la comparsata magari spezzare il discorso se poi magari comincia a scrivere con lui si riesce a fare un discorso ma quando lui è giustamente preso dal suo filologico narrativo andargli a spezzare la situazione magari è così poi lui come me è un personaggio abbastanza prolisso soprattutto ha la capacità come ben pochi di usando parte la sua mega autoironia lui ha la capacità giustamente anche di come dire di estrapolare il suo content principalmente anche quello di far capire il suo punto di vista su tante situazioni particolari più o meno importanti dal punto di vista diciamo lui narra dei suoi punti di vista delle sue esperienze da quello che ho sempre capito io e quindi automaticamente ci può stare cioè lo seguo mi piace soprattutto mi fa piacere sapere che comunque è bene devo dire la verità l'ultima volta sono rimasto contento che si è un attimino sistemato si è sistemato vedere una persona di una certa età una persona degna dal mio punto di vista una certa età un po' trasandato col capello non fatto lui che comunque è una persona di un certo calibro dal mio punto di vista quindi andare a vedere una persona un po' col capello un po' così stasandato così che non si cura un pochettino di se stesso magari non vorrei che lui lo prendesse male con questo discorso però una persona di una certa età visto ci posso capire io ho 45 anni non ci crede nessuno se non fosse per la barba diciamo che va bene sta bene col capello sì diciamo che sembra una persona pulita e sistemata per quello che lui è niente io parlando con te ho detto ma vediamo questa live vediamo che cosa succede se ci sono se i poteri forti tornano se i poteri tornano oppure non tornano no più che altro sai che sto facendo nel frattempo che io parlo con te sto cercando di gestisci i sondaggi no 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 azioni di streaming no crea clip no gestisci obiettivi no si mette il congiunto ancora meno dice ma che stai facendo beduino sto cercando una cosa meravigliosa ovvero c'è presente quando 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 diciamo quando ci sono le attività non ci siamo capiti quando praticamente quando c'è l'abbonamento quando diciamo gli eventi gli eventi gli eventi cancella cronologia attiva disattiva c'è solo follower e non è questa via pro pronostico gestisci obiettivi gestisci i sondaggi no 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 streaming informazione modifica no aggiungi nascondi crea clip interrompi interrompi il raid per un'ora non ti poca non c'entra niente vabbè 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 no più che altro più che altro questo dico casomai fa qualche follower qualche cosa perché poi in chat me lo dice ma va bene va bene finché va bene niente quindi che avete fatto io parlando con voi signori e signori sono tornato il beduino è tornato in questo mondo videoludico diciamo perché per un piccolo e semplice motivo niente siamo ritornati felicemente a Palermo felicemente è un modo di dire e quindi abbiamo praticamente fatto niente sono io nulla di che si si da non è che nel frattempo che non ci siamo visti il beduino è diventato ricco manco poco cazzo sempre più povero anzi potremmo dire infelicemente baby baby qualcosa ah feed di attività ecco era questo quello che volevo sentire i feed di attività i feed di attività benvenuto ieri ieri che ne manco ho stremmato baby pgquingul si è iscritto al canale di bedu è diventato un follower mi fa piacere mi fa piacere beduino sta seguendo questa piattaforma allora parlando con lei no no perché mi sono dedicato per chi segue i social network di beduino che sono sempre in descrizione proprio perché non mi voglio nascondere mai niente soprattutto a chi mi ha seguito su cose mi sono più dedicato parlando con voi al mondo della fotografia al mondo del cazzeggio fotonico e soprattutto ho fatto più lo spettatore ho fatto più lo spettatore e diciamo che sono alla ricerca di una piattaforma che mi dia uno spazio di visibilità in che senso per esempio io ho notato che io ho un'applicazione che si chiama Guru's Shop partendo dal mondo della fotografia io ho un profilo che si chiama Guru's Shop Short che è un'applicazione che parla principalmente di fotografia di fare fotografia di un certo livello di un certo tipo di un certo calibro ho notato una cosa molto piacevole che chi fondamentalmente ne capisce di fotografia o è piacevole di fotografia mette bei cuoricini mette dei bei like sulle mie fotografie cosa che non succede assolutissimamente minchia allora non è scappato Fidel mi ha estradiato quindi per questo mi trovate su su Twitch e quindi praticamente cosa è successo buonasera signor Focca buonasera buonasera quindi cosa è successo io ho bisogno e sono stanco di essere maltrattato dalle varie che è successo dalle varie buonasera a lei dalle varie diciamo dalle varie aspetta mi posso togliere benissimo anche questa cosa perché tanto musica non ne sto sentendo e mi fa sentire solo caldo niente carissimo quindi io ho bisogno di alcune comunque il zio Fidel è leggermente leggermente molto vabbè ma io sono il cugino di terzo grado un po' rincoglionito io a sta la faggiana sempre lo abbiamo sempre detto non ce lo siamo mai nascosti e quindi praticamente sono alla ricerca di una piattaforma che faccia trasparire in maniera giusta e non economicamente pilotata farmi conoscere dalle persone farmi conoscere dalle persone questa cosa è molto molto difficile di buffer perché cosa ha avvenuto di buffer non lo so che succede ci siamo ancora qualcuno mi scriva se ci siamo ancora qualcuno mi dica se siamo online per favore ok perché niente a me qua per un attimo ha tutto allora praticamente cosa è il discorso volevo praticamente capire volevo praticamente capire cosa trovare un po' un social che mi dia un pochettino di visibilità anche perché comunque ormai il signor Twitch mi sembra abbastanza stagnante il signor Kick nemmeno non so per quale motivo non mi fa nemmeno più entrare nel mio account come se avessi fatto chissà che cosa sicuramente qualcuno avrà pilotato per non farmi entrare più anche perché non avrebbe senso perché non ho fatto nemmeno una live da quel lato così ci sarebbe la possibilità Pinterest potrebbe essere allora Pinterest è un social dove praticamente tu puoi dimostrare la tua arte le tue abilità e le tue capacità però il problema qual è che non ci puoi comunque capitalizzare nel senso che Pinterest lo devi conoscere cioè molta gente usa Pinterest per esempio gli artisti lo utilizzano per estrapolare per avere un po' di come si dice un aiuto per capire magari avere di nuovo la vena artistica poetica per poter fare le cose se non sbaglio io me lo scaricai Pinterest quando praticamente entrò in vigore prima del covid solo che poi andò a finire un po' a taralluccebino vabbè comunque lo mollai lo mollai io vedo che ormai su Instagram la situazione è lo stesso la situazione su TikTok è lo stesso l'unica piattaforma dove fondamentalmente non ho provato mai realmente a impegnarmi a fare cose è il signor è il signor Facebook che fondamentalmente anche lì chi più chi meno il problema è che magari potrei avere delle sfaccettature però non lo so non lo so signori poi comunque ritorniamo a dire oggi più di prima sono sempre nella situazione che sono alla ricerca sempre di lavoro di un'attività commerciale che mi retribuisca per la mia presenza bellissima scenica ma non solo che comunque mi faccia comunque mi faccia comunque avere un'entrata cosa che sicuramente noi sappiamo perfettamente è che il signor qui il signor Twitch faceva riusciva a fare ogni tre mesi pregando e supplicando le persone che mi donassero qualche cosa onestamente non è nemmeno bello non è nemmeno bello perché io penso che se uno se lo merita se lo merita io a un certo punto ho sempre pensato a parte grazie al signor Fox al signor il signor Cernia che mi dedicavano i propri averi il proprio Prime ma non lo so se oggi come oggi ne valesse realmente la pena così anche perché un po' come un po' criticavano tempo fa i vari streamer di Twitch e come invece poi hanno fatto molti avendo ragione avendo avuto pure più fortuna oggi come oggi secondo me prima di atterrare su Twitch e cominciare a fare live a fare cose secondo me uno bisognerebbe un attimino farsi conoscere un po' meglio un po' in giro e poi devo dire la verità ho pensato ho pensato che ripeto a dire vorrei riprendere in mano non pensate male le cose sozze vorrei riprendere in mano un attimino la macchina fotografica per spingere il beduino un pochettino per la situazione delle fotografie un po' artistiche non ti dico che voglio diventare il più grande fotografo del mondo perché c'è gente veramente molto più brava di me veramente veramente molto più brava di me che fanno le cose con cognizione di causa che non hanno fortuna immaginate uno come il beduino quindi dovrei ormai il problema su internet è anche quello voi vi potreste dare conferma oppure no ormai la situazione è un pochettino negativa è un pochettino diventi un ladyboy come devi diventi famosa eccetto che ormai viviamo in un mondo che se non dà il culo praticamente o non perdi la dignità ormai e così è anche vero che una delle famose forme e cardini di questa situazione che se tu in una piattaforma non vai non vai girare la fresca come dico a Milano se non fai girare un po' di soldini per te e per la piattaforma che ti ospita secondo me non tu se pensa nessuno non ti cago da nessuno e quindi anche se questa volta magari potrai investire quei 3-5 euro a settimana per postare qualche cosa per avere un minimo di come fanno tutti c'è chi come Twitch si botta paga bot per per avere 300-400 falsi e poter uscire e dire io ho gli spettatori e c'è chi invece paga per fare le visualizzazioni per fare le cose i famosi Ferragnez insegnano i Ferragnez ormai ex Ferragnez ormai non si sape manco più come sanno a chiamare Tot e Totino che erano almeno quelli erano due persone serie anche se facevano molto orride e quindi questo bisogna voglio capire prima di mollarmi di nuovo in questo tubo mediatico di Twitch volevo capire un pochettino cosa volevo fare ovviamente nel momento più opportuno dove io dovevo dare un attimino una scossa anche non mi rascondo che pensavo di fare anche un pochettino di un po' di ho cominciato a fare YouTube un po' delle live però poi a un certo punto ho avuto tante cose da fare in campagna perché io sono andato da campagna se no da una settimana e tra l'entresi questo fine settimana siamo ritornati in campagna per stare un po' in compagnia diciamo che ci sono stati ora che dovrei riprendere a fare cose indovinato un po' diventato un po' è ripresa mi è ripresa l'ernia al disco quest'anno con il super bonus del nervo sciatico e quindi ovviamente nel momento che io mi dovevo dare una mano mi dovevo auto aiutare non mi posso nemmeno aiutare cioè mi devo imbottire di antidolorifici che mando che mando pure la lettera al medico di base per farmi mandare gli antidolorifici e invece non mi ha cagato di pezza non mi ha cagato di pezza questa cosa è veramente meravigliosa mi dà veramente tanta tanta soddisfazione però vabbè pazienza e siamo qui io ogni tanto stalkerò qualcuno nei propri profili ho fatto un giro per le varie live per vedere se c'è qualcuno interessante se cambia la troca la troca mi dovevo farmi andare la troca dal dottore quella legalizzata niente più che altro ormai anche il beduino si è dedicato a questo divertimento video questo divertimento del mondo della radio del mondo radiotrasmettitore ovvero questo mondo fantastico ti ho beccato da Dancolo sì allora io devo dire la verità da Dancolo anche se per me non se lo merita perché fa finta che non mi vede che non mi conosce dopo che lui ha detto tanti anni che lui mi aveva scoperto lui e che lui ci sono tanti facciamo un po' di dissing tanto ci può stare dopo tanto tempo siccome l'ultima volta secondo lui io sono stato uno che gli ho fatto inimicare il signor Vanni allora lui quando entra fa finta che non mi vede però quando ci faccio il prime il prime è contento è contento quando il prime ma siccome a un certo punto io essendomi che mi sento veramente poi a un certo punto mi sento una persona buona e poi ripeto sarebbe un prime sprecato non darlo siccome lui comunque una cosa che si ci può dire è che comunque lui non è una persona non cerca di darsi aiuto non cerca di darsi di lavorare in maniera più onesta possibile è giusto che io il mio prime glielo ho dato certo lui ci prende due euro non è che due euro gli cambiano la vita però lui lui ha un problema che ho pure io che è veramente difficile ovvero lui paga le tasse e siccome lui paga le tasse e dimostra perché comunque lavora comunque cerca a modo suo di contenuto di farlo mi sembra giusto mi è sembrato giusto il prime darlo a lui questa volta invece di darlo ahimè al signor al signor come si chiama al signor gustavo quindi questo alla fine della fiera ciao baby cernobil rinnovato il prime per 24 mesi cioè signori cioè di che cosa stiamo parlando soltanto gente meravigliosa che segue che segue il pedo che vuole il cernia buon anno signor cernia lei come sta come sta mi è un bel po' che non ci si vede e non ci incontriamo in questa pubblica piazza sono diventato sempre buon anno si è passato quasi un anno da un lustro e si dobbiamo fare i mortaretti una cosa io questa estate un paio di mesi fa la stavo contattando perché mi dovevo fare dare il suo indirizzo visto che mi le dovevo spedire una cosa solo che poi alla fine tra una rottura si praticamente i tempi i tempi morti del bedo durano un lustro lo sappiamo tutti quindi tempo di sistemare un po' le situazioni tempo un po' di fare delle cose spero tutta bene tutta a casa spero una vasata un colpo di lingua al signor al signor al signor al signor cerno ma anche a lei se lei vuole fatto come fanno le brave mamme vuole mandato upacco upacco signor signor fox basta che lei me lo faccia sapere ma io pure sono contento di c'ho una richiesta mi dica mi dica mi faccia questa richiesta prego prego se accomodi se è possibile mi dica mi dica e niente certo mi dica mi dica mi dica allora di che cosa abbia bisogno mi dico mandare piccolo perché non c'è se mi vuole mandare tutto tranne soldi e nemmeno cose sessuate avrei bisogno di un garante per un mutuo tasso variabile mi piace vederlo con i calzini mi piacerebbe vederlo con i calzini alla cernia perché voi non sapete che il signor cernia era l'uomo che sussurrava che ascoltava i calzini signori alla prossima live anzi è che non saprei nemmeno dove trovare un paio di calzini puliti però non me lo dimenticherò prossima live prossima live inizierò direttamente con i calzini per cercare di affinare questa sacra arte dell'ascolto del pedalino come sto bella domanda bella bella domanda una domanda sempre molto difficile perché sappiamo perfettamente che il beduino è una persona che ha sempre una rottura di scatola ha sempre una rottura di pelotas però diciamo che in linee generali se non fosse per il learning al disco con conseguente o estando abbiamo il bonus il bonus si chiama nervosciatico bonus nervosciatico che devo dire un pochettino si sta sfiammando e sono come i vecchi che vado soffrendo dei cambi repentini di di tempo e quindi questa situazione è un pochettino potremmo dire un po' particolare un po' particolare pure sua mamma il problema tutto parte dall'enna al disco l'enna al disco andandosi a gravare va scivolandosi va impostando in situazioni di poco gusto e quindi automaticamente come dissero i francesi bisogna un attimino poi si va aggravando aggravandosi crea queste piccole disfunzioni ovviamente quando io mi dovevo andare a cominciare a sbracciare per cercare uno straccio di lavoro qualsiasi esso sia invece come sempre nel momento meno opportuno invece di andare a lavorare piglio mi devo andare a buttare nel letto perché se no non si ragiona in più intanto mia sorella ogni tanto ha bisogno di me io mi imbottisco per bene mi imbottisco per bene tanto devo sedere per fortuna più spesso in macchina quindi questo è questo è ma parliamo ma parliamo di altro parliamo di cose diciamo di molto gaudo vorrei vorrei riprendere allora signori parlando con voi vorrei riprendere dopo un anno diciamo a lasci e prendi lasci e prendi vorrei ricominciare a dedicarmi in tempo in tempo visto che non c'è molto tempo nel senso visto che ho del tempo da dedicare vorrei riprendere un pochettino a fare live fare live dedicarmi anche un po' ad altre attività stavo pensando anche a riprendere in maniera abbastanza seria il discorso dell'arte digitale di rimpegnarmi a fare delle cose ovviamente un pochettino tutto mediato tra gli impegni di casa però vorrei anche riprendere un pochettino anche delle IRL anche se devo dire anche se devo dire io le IRL mi piacevano farle ma oggi come oggi con l'aumento della criminalità organizzata minima ovvero la micro criminalità oggi come oggi andare in giro a fare live mica mica e cazzo veramente ormai a Palermo per quello che si sente dire in giro tu ti devi aprire gli occhi tanti e ti devi spaventare perché tu vado in giro con un cellulare vado in giro con tutta l'attrezzatura mi direbbe abbastanza fastidio che la situazione possa degenerare e perdere quel minimo che sono riuscito a guadagnare anche perché comunque ormai si sta avvicinando l'inverno si sta facendo freddo io ormai ho 45 anni e mettermi a fare il cretino piedi piedi per ridere gente vabbè comunque non lo so magari fare delle irle di giorno magari contestualizzate a qualcosa di interessante oppure signori continuare a fare le live qui dalla casa del grande Bedu anche se dovrei finalmente dovrei praticamente in uno o due giorni dovrei sistemare totalmente la stanza perché c'è sempre di stare veramente in una stanza di un accumulatore compulsivo ossessivo c'è veramente un delirio nella mia stanza apriamovi chi fa caldo sto sentendo caldo e quindi è un po' questo vorrei vorrei fare tante piccole cose e dire la verità non ho nemmeno non ho nemmeno tante idee da portare magari avessi la donna viene di giorno a me lo farei mi creerei un only fans e andrei oppure pagherei quei 30 40 euro che vuole Pornhub farei le cose zozze diventerai famoso più famoso di Rocco Rocco nazionale che noi salutiamo e vogliamo bene e noi prendiamo come punto di riferimento sano per una sessualità sana perché che se ne dicano Rocco è una persona favolosa meravigliosa una persona veramente che ha saputo nella sua vita mettersi in gioco anche in prima persona sembrerà strano ma è una persona da prendere da prendere anche a certe volte anche da esempio perché per quella la vita che ha avuto per quello che ha passato via per quello che passa vabbè comunque nella vita ognuno poi prende i propri esempi io volevo prendere come esempio il signor Cernia ma il signor Cernia non ha più fatto live quindi non ha avuto più il mio il mio lumen la mia luce la mia stella polare quindi vabbè vorremmo chiedere al signor Cernia come sta il signor Rasti il signor Rasti come sta la prole la famiglia tutto a polso ci sono state è novità per quanto riguarda la piscina che Rasti è è l'unico è il migliore di noi signor Rasti che che ne dica tu secondo me io te l'ho sempre detto gli dovevi gli dovevi far fare le vabbè è anche ottobre magari magari ci può anche essere stata questa situazione più che altro io arrivate a dire avrei fatto live Rasti 24 ore su 24 non stop con live in giro vari vari canali social di del tipo instagram con foto cos'è zoz anche la foto cos'è tipo di Rasti che si acchioppa e diventa poi papà e deve fare pure quello che fanno per esso gli americani quando diventano papà e mamma fanno la festa per scoprire il sesso del bambino e quindi comprano fumogeni cartapesta fanno il carro di carnevale questa cosa è meravigliosa oppure gli fai pure fare il test di gravidanza per vedere se Rasti è ribasto incita questa cosa è tristissima abbastanza grave e niente siamo qui ma devo dire la verità stranamente sto notando una cosa di questi giorni sembra quasi quasi vorrei mettere l'orecchino ma chi arrasti o al tuo uccello non ho capito quella delle due allora io invece ho notato una cosa che c'è a Palermo la sera un silenzio un po' stravagante in che senso ci sono dei momenti di giorno magari un po' di meno però devo dire che è un periodo che sento che c'è un po' di silenzio nell'area qua a Palermo nel senso quasi da covid non facciamo che per adesso ci sia qualche bella pandemia di qualche malattia di covid cose che non ne so niente perché mi è passata pure la fantasia pure informarmi di queste cose e magari stanno progettando l'ennesimo quarantena e ci manca solo la quarantena e siamo fottuti oppure siamo tutti spaventati dentro casa che ci arriva la guerra ma no sono tutti a casa a guardare il grande bedo no invece secondo me sono tutti a casa a guardarsi quel programma tristissimo che è il grande fratello voi signori seguite il grande fratello lo guardate lo seguite lo idolatrate lo imitate vorreste essere al posto di quei personaggi pagati per essere tristi io preferisco oh un signor un signor Peter Pan attenzione amici della club come stiamo H24 vabbè grazie abituato abituato a vedere giustamente una live le maratone di Chioma Bianca giustamente o così e invece salutiamo l'amico Chioma Bianca se lo dovessi chiamami suoi maestri imperiale niente di meno niente di meno lei lei duchessa di Bagheria lei duchessa di Bagheria ma quando ormai ormai Chioma Bianca ormai lui manca poco e si apre pure una concessionaria siamo a posto oggi gli ho mandato l'amicizia su facebook vediamo se Chioma Bianca mi accetterà l'amicizia su facebook oppure fa finta di non conoscermi vedremo vedremo che si dice signor Peter Pan cosa mi racconta come è andata la sua estate signori scrivetemi un poco come è andata questa estate avete chiamato avete fatto figlia avete comprato oggetti inutili nuovi ditemi ma non penso lo uso qua mi conta ormai Chioma Bianca non lo so non lo so sono fatti i suoi sono fatti i suoi io ogni tanto ogni tanto ogni tanto mando un ciao alla signora alla figlia di Chioma Bianca la signora Valentina alla signora alla signora Chioma Bianca che poi ricordo che si triggerava malissimo quando gli dicevano una cosa del genere ma comunque quindi signori canale di Beto canale di Beto riusciremo a fare qualcosa l'ardua sentenza ai posteri già due live in tempo due live una live al mese già è sintomo di ritorno poi magari il Beto all'improvviso da che non fa live incomincia a fare live una dietro l'altra in maniera non senza come al solito chi ha vado molto messi in cinta e tante gnagna sono contento quindi quando è che farà come diceva il signor Chernobyl quando è che farà la festa all'americana per scoprire prima deve fare fare alle sue future mogli perché lei è palindromo lei che è palindromo mi deve dire mi deve fare il video di loro che testimoniano che lei è diventato papà e poi deve fare affittare un tendone da circo perché poi dei di questi bambini deve far capire praticamente il senso con i fumogeni la stadio gli ultra che dicono devi pagare le tasse devi pagare le tasse questa cosa così mi sono presentato come nome ah ho capito ho capito quindi avevi sottomentine e spoglie ah come sottomentine e spoglie cioè quindi lei fa le chiave ho capito ottima scelta lei sì che è un bel furbetto e solo pochi possono capire questa formazione e niente signori quindi il discorso è quello siamo stati qui io non ho chiamato stranamente non l'avrei detto io avevo grandi 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 cose però alla fine niente ahimè io io onestamente le mie carte me le sono giocate però non ho avuto nessun risultato io diciamo i miei occhi il mio sguardo da triglia a caponata l'avevo l'avevo fatto l'avevo fatto e invece no no ma non lo so forse non sono più piacente come quando avevo vent'anni chissà perché io avevo i miei forti dubbi però pensavo di almeno una botta da qualche milfona a qualche vecchia arda diciamo incarezzia l'avevo fatto però diciamo che Augusti allora voi come avete passato la vostra estate io abbastanza di merda perché comunque considerate che il Beduino ha fatto questa benedetta successione quella famosa successione che Beduino lesinava soldi a destra e manca per poter pagare anche la spesa però alla fine grazie al signor Compass come dicevo a qualcuno di voi in privata in privata sedia grazie al signor Compass sono riuscito a pagare questa successione anche perché se non si fa entro l'anno poi diventa pagarla pagarla significa veramente diventare pazzi sono riuscito a fare questa cosa devo pagare per tre anni il signor Compass per una cifra che diciamo speriamo di poter agevolare agevolare però diciamo che continuerò per i prossimi tre anni a fare la vita del povero ringrazio a Dio che ho una casa e a un certo punto posso mangiare anche bocconcini a vita un po' come si dice posso mangiare anche pane e cipolla perché dico l'importante è arrivare all'obiettivo se uno ci crea o se no oggi pensavo cambiando discorso pensavo di usare l'agevolazione fiscale del rientro della fuga dei cervelli per chi non lo vesse sapere c'è una legge che se tu stai almeno uno o due anni fuori dall'Italia e poi rientri per due o tre anni non paghi le lasse o forse le paghi molto di meno rispetto a queste quindi io faccio il propostore al signor Fox al signor Chernobyl di mollare tutto hai tolto io ho tolto la meloni in che senso non ho capito mi scusi ma me lo dica me lo dica vabbè comunque ho pagato quella cosa quindi con i pochi averi che mi sono rimasti ho fatto spesa sono stato 15 giorni praticamente soltanto a Ustica a casa mia poi siccome allora poi vabbè è successa una situazione con la macchina incredibile ho speso un putiferio di soldi per rifare allora praticamente quest'estate io verso la fine di agosto dovevo praticamente rifare come tutti la circolazione dell'auto andavo nei posti e praticamente cosa è successo è successo che le mie targhe erano consunte e quindi il riflettente della parte bianca delle targhe anche se l'avevo fatta veramente falsa abbastanza bene che intanto che era durata 10 anni non andava più bene anche perché perché poi la rottura di coglioni che ho pure un carrello calato in questa macchina quindi cosa è successo vado all'agenzia l'agenzia mi hanno detto ma qua c'è ancora sua madre che è morta quindi praticamente per fare le targhe e per fare ho dovuto fare un passaggio di proprietà per la modica cifra di 500 euro anzi no di 400 euro perché è venuto 390 e qualcosa ho dovuto pagare 390 più 80 più più ho fatto ho dovuto cambiare pure le ruote della macchina perché facevamo rende schifo niente praticamente io ho dovuto scacciare mille rotti euro in più che non c'erano proprio messi ma siccome la macchina mi serve li ho dovuti per forza spendere quindi è stata una emorragia continua di soldi ancora c'è emorragia ritornandina quindi se volete donare non vi create problemi ho speso una caterva di soldi ma non penso di avere speso meno soldi di voi che pure voi siete comuni cittadini e vivete in un tessuto sociale e penso che pure voi avete avuto i vostri cazzi da scippare soldi da pagare tassi da pagare e praticamente il famoso discorso che con i nostri soldi i politici se ne vanno in vacanza alla faccia nostra e noi come gli stronzi dentro casa a morire di caldo cose che succedono signori cose che succedono però diciamo che quest'anno è andato così speriamo nel 2025 che sia molto meglio rispetto a questa cosa anche se già la signora bionda melona lei sta mente spudoratamente su tutta la linea dicendo che non aumenterà ma sta aumentando ma dall'inizio all'anno prossimo aumenteranno veramente le cose in maniera veramente drammatica io veramente questo forse occade il governo veramente stavolta c'è una guerra civile che ti sei comprato la macchina nuova oppure hai deciso di fare live streaming su twitch e ti sei messo a fare ti sei comprato il computer super mega power o ti sei comprato la playstation 5 non lo sapremo mai comunque signori alla fine soldi 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 uno li dovrebbe stampare forse un giorno lo farò ci vogliono soldi però poi alla fine siamo tornati ad agustica siamo scesi verso la fine di agosto siamo andati sono andati in campagna quindi sono stato immerso comunque nel verde ho fatto queste due tre cose che comunque c'erano fare poi fino a ieri ho pagato pure l'assicurazione avevo 200 e rotti euro e uno poi gli stampa le cose vabbè ma io ho il signor cernia che si fa la sab sul mio canale attenzione non tutti meritano non tutti meritano e quindi questo ora vediamo vediamo un pochettino se ora domani mattina devo andare infatti ora sto staccando stranamente sto staccando pure perché domani mattina devo andare in banca a chiudere un conto corrente concluso di pagare un incidente che fece a maggio con il noleggio molla molla saracenesca nuova più mano d'opera più passo a carabia oltre al muto rata il piccicino è penultima fortunatamente io pure verso verso lui verso dicembre mi scadono dovrei finire di pagare le tasse dell'anno scorso più quella che è già il piccolo anticipo più delle cose di pagare qua della messa in sicurezza di sto palazzo ovviamente devo continuare a pagare il condominio perché il condominio va pagato però diciamo che da dicembre la situazione dovrei avere qualche soldino in più non ci metto la firma non ci credo nemmeno io fin quando sai dice non dire gatto se non l'hai nel sacco quindi nel frattempo io me la gioco come me la sono sempre giocata caro Fox nel senso che spero sempre che qualcosa migliori che qualcosa migliori quindi io siccome domani mattina mi devo stare esattamente veramente mi irriterebbero pure peggio comunque a parte questa cosa io ora stacco che domani mattina vado ho da fare cose importanti il signore vi benedica e vi protegga sempre asta la faggiana sempre nei vostri cuori mi raccomando non vi dimenticate di Beduino e dei suoi social seguitelo stalkerato mettete like e viva la faggiana sempre mettete tutto le mettete cuoricini condividete fate tutto quello che Beduino vi propone per favore così cerchiamo di farci conoscere magari mi viene più velo più voglia di fare live il Beduino vi vuole bene grazie della compagnia ciao Fox ciao signor Cernia signor Peter Pan e chiunque segua il Beduino grazie della compagnia e ce la rivediamo e ce la rivediamo all'improvviso dal Beduino Ruben è tutto come sempre ciao cari ciao cari ciao cari